Ehi, non mi riconosci? Ti salvo? Sono Rosa Ricci, la sorella di Ciro. Un genio. C'è vero, mi piegherò. Carmine, Carmine, muoviti. Dai, prego, dai! Allora, questo è un giorno importante per tutti noi. Avete lavorato tanto per sistemare questa barca e adesso usciamo tutti insieme in mare. Questo vuol dire che non valete meno degli altri, che col lavoro e con l'impegno si può ottenere tutto. Io vi garantisco che quando saliremo su quella barca, la soddisfazione che proverete, non me la dimenticherete mai. E' una botta di felicità unica, che arriva soltanto quando quello che si è fatto è giusto, è pulito, è onesto. Io vi conosco tutti quanti. Uno per uno. E so che avete sbagliato. Ma voi potete essere più forti dei vostri sbagli. E ve lo dice uno che nella vita ha sbagli. Non è secondo a nessuno. Una bottiglia. Vai, vai, vai. Forza, via. Grazie. Vai, vai, vai. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.